Sanni Che c'è? Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Andiamo Andiamo guarda dentro che l'ho morto fatti fare una bella pettista mamma che c'è qua guarda che bellissima girati di qua, di qua perché di qua no? c'è una mannaia che si dispone guarda, tutto il sedere si può mannaia zucchi